Ho pensato di donarle una targa per ricordarsi veramente di questa città. Questo ringraziamento chiaramente va esteso, come diceva bene lei, a tutto quanto, all'organizzazione della Polizia, perché i risultati si ottengono con il lavoro di ogni singola persona, che lei ha saputo ben coordinare. Quindi, nella targa c'è scritto dall'amministrazione comunale, ringrazio il signor Questore, il signor Filippo Di Castro, per l'impegno profuso a favore della collettività. Caltanissetta, 29 aprile 2015. Oggi Caltanissetta saluta il Questore. Una targa, belle parole da parte del Sindaco. Sono grato al Sindaco e al Presidente del Consiglio. È stata chiaramente un'emozione. Come ho detto al Sindaco, richiamando il gergo calcistico, sebbene ci sia una rivalità atavaga tra l'Akregast e l'Anissa, io sono affezionato a Caltanissetta. Contando gli anni, io ho lavorato più di sei anni tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Questura qui a Caltanissetta. Quindi, un pezzo del mio affetto rimane a Caltanissetta e con gli insegni. Cosa farà adesso? Beh, cosa farò? Vedremo questa nuova avventura cosa mi dà. Mi auguro soltanto che il signore mi dia la salute, di potermela godere con mia moglie, di fare quello che non ho fatto in 40 anni. Cioè, riuscire finalmente a girare. In 40 anni tra i vari uffici conoscevo soltanto l'alloggio e l'ufficio. Abbiamo salutato il questore, il dottor Filippo Nicastro, con il quale ho instaurato uno splendido rapporto di collaborazione perché entrambi avevamo a cuore la garanzia della sicurezza nella città di Caltanissetta. Io ho riportato dei risultati lusinghieri, ho fatto i complimenti perché il lavoro svolto ha consentito di garantire livelli di sicurezza significativi nella nostra città. Ho condiviso con lui l'inizio della mia sindacatura e l'ho sentito vicino nei momenti in cui questa amministrazione ha avuto bisogno di una forte collaborazione, soprattutto per l'attività in centro storico o laddove i cittadini segnalavano situazioni di disagio. Abbiamo consegnato proprio una targa a nome della città per ringraziare il signor Questore per l'attività svolta e per lui tutta la polizia di Stato che con professionalità svolge ogni giorno un lavoro davvero importante.